Centesima presenza, un traguardo importantissimo. Un traguardo importante che ci teniamo a raggiungere perché personalmente è una bella soddisfazione. Era stato bello se vincevamo 1-0 e con la vittoria e il gol sarebbe stata la domenica perfetta. Però è importante aver portato a casa un punto, rimane il rammarico della mancata vittoria. Però stiamo crescendo, si vede, manca solo il risultato. È la cosa più importante, però vediamo di raggiungere. Il risultato, mi inizia la squadra a crescere, primo gol l'hai segnato tu, poi nel secondo tempo la squadra è stata un po' in bagliere degli avversari. Magari mentalmente si è persa la concentrazione. Forse ci siamo abbassati un pochino troppo, però c'è stata l'espulsione, ci siamo abbassati ancora di più. Alla prima occasione hanno fatto gol. Mi dispiace, mi dispiace perché è una vittoria che cerchiamo da tanto e non è ancora arrivata. Il campionato è lungo e cerchiamo di raggiungere l'obiettivo il prima possibile, per forza. Ancora complimenti per le 100 presenze. Entri nel club di chi è andato oltre le 100 come Spinelli, che è l'attuale preparatore dei portieri del Chelsea. È stata anche la nazionale italiana, quindi vi auguriamo di proseguire anche dopo nel calcio. Lo spero vivamente di indossare questa maglia il più lungo possibile. Grazie, Miguel. Grazie.